E' all'interno stesso delle organizzazioni perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto e temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Scusi, perché dice questo? Questo che sta dicendo adesso è molto grave ed è anche nuovo. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro.